Un saluto a tutti gli ascoltatori e i video ascoltatori di Liberi.tv, un grazie a Gianni Colacione perché ci sta offrendo l'opportunità di riflettere ancora insieme sul lavoro che si sta facendo con l'associazione di cultura politica Il Cantiere. Avendo noi questo approccio liberale al nostro interno stiamo sempre riflettendo e ragionando anche sulla forma organizzativa dei soggetti politici e in particolar modo noi essendo un think tank, un pensatoio, stiamo anche valutando come il metodo liberale possa avere un ruolo determinante sulle organizzazioni e ci siamo soffermati su una frase di Luigi Naudi, quello che dice la bellezza della lotta. È ovvio che nel metodo liberale c'è sempre il contraddittorio, a volte c'è anche il conflitto, a volte spesso c'è il dissenso perché il dissenso è liberale, però mentre tutti quanti in genere sottolineano la parola lotta, il vocabolo lotta, quando citano questa frase di Luigi Naudi, il cantiere ha preferito riflettere sull'altro vocabolo, cioè sulla bellezza della lotta, dove l'elemento caratterizzante di questa frase non è tanto l'aspetto del conflitto, cioè della lotta, ma quello della bellezza, cioè come possa diventare elemento di dialogo anche la forma del dissenso in un'ottica di armonia, non soltanto di cooperazione, ma di collegialità, come la squadra di calcio, come abbiamo detto in altre occasioni, la squadra di calcio magari dei mondiali del 1982, l'Italia campione del mondo, ecco tutti i giocatori di quella squadra erano degli individui che svolgevano un ruolo di leadership nel proprio ruolo in campo, eppure una squadra amalgamata, tra loro si intendevano, allora oggi anche con l'altro socio fondatore dell'associazione cultura politica il cantiere GG per Luigi Marconi, volevo riflettere con lui per dire a che punto siamo come associazione sul dibattito e sull'approfondimento, come pensatoio su questo tema della collaborazione, della collegialità, della forza della squadra. Sì, uno degli obiettivi che si è posto il cantiere è di proporre dei modelli diversi, i modelli come viene usato all'interno del cantiere il concetto di modello altro, cioè un qualcosa che si collochi a volte anche ortogonalmente rispetto alle dialettiche attualmente presenti per trovare delle nuove soluzioni anche operative a problemi che ormai sono caratterizzati nel mondo attuale da degli eccessi di complessità, eccessi di complessità che per difficoltà di gestione di governo spesso si traducono in semplificazioni ostili, cioè in posizioni di soluzioni più semplicistiche che permettono un controllo della situazione ma poi che poi inevitabilmente generano ulteriori situazioni conflittuali e comunque non creano quelle condizioni di armonia e di benessere generale che è quello auspicabile in una società evoluta. In questo senso abbiamo ipotizzato che la possibilità di sviluppare una forma di pensiero collegiale, quello che già da altri autori è stato chiamato come intelligenza collettiva ma che possiamo anche chiamare come intellettualità collegiale, ognuno trova il nome che più gli si addice, possiamo risolvere questi problemi con un dibattito all'interno del quale la diversità di opinione, la dialettica non sia un elemento dispersivo e di contrapposizione distruttiva ma divenga in realtà una fonte di creatività e di sviluppo di nuove soluzioni che al loro interno contengono le diverse apparenti contrapposizioni. Ragionando in questi termini viene alla mente la riflessione che ciò che si riteneva essere il massimo dell'evoluzione della convivenza pacifica, ovvero la cooperazione, potesse non essere la reale soluzione finale di un sistema dialettico posto in questi termini ma che la vera soluzione finale che potesse esprimere queste potenzialità di emergenza di nuove soluzioni collettive, collegiali, usando un termine magari anche diverso per non creare dei fraintendimenti con termini già precedentemente usati, sia in realtà non la cooperazione ma la sinergia. Se noi andiamo a guardare in natura è la sinergia il processo che realmente crea la biodiversità e quella complessità naturale che rende più resilienti i sistemi naturali stessi. Che cos'è la sinergia rispetto alla cooperazione? La cooperazione è un'inseria di soggetti attivi che operano verso un fine comune attraverso un metodo in qualche maniera comune e coordinato. In realtà nella sinergia gli obiettivi e i metodi possono essere diversi, l'importante è che si portano a reciproco vantaggio e l'altro secondo corollario è che non si contrastino e non si ostacolino oltre quel minimo che è inevitabile. Infatti nell'analisi che abbiamo portato avanti come cantiere emerge sul piano politico come oggi i partiti politici, comunque le organizzazioni, i soggetti politici soffrono al loro interno di forti conflittualità che sono distruttive, disperdono energia. Queste conflittualità in realtà pongono il nemico all'interno stesso della propria organizzazione e non è più neanche un avversario interno ma è un nemico da buttare giù dalla sedia e sostituirsi ad esso. Addirittura non rispetto a un partito o un soggetto politico posso in un'altra parte ma proprio al proprio interno, cioè nella propria casa ecco la faida, la faida che è diventato elemento caratterizzante oggi dei partiti politici. Nella prima repubblica è vero che i partiti avevano delle forti conflittualità interne ma erano conflittualità liberali e democratiche e servivano per comunque anche selezionare una classe dirigente che fosse preparata al meglio rispetto ai compiti che aspettavano poi una volta raggiunte le istituzioni e quindi ricoprire incarichi istituzionali in Parlamento ed altro. Oggi invece sembra che questo non abbia più neanche questa capacità e non si seleziona più neanche una classe dirigente ma si creano diciamo delle conventicole intorno al proprio capo, al proprio capo bastone e questo solo nell'ottica di avere la supremazia su magari l'altro esponente dello stesso partito. Mentre nel cantiere noi abbiamo sempre detto il cuore e la testa, è vero abbiamo parlato di intelligenza, intellettualità ma abbiamo messo anche l'elemento affettivo dentro, cioè l'elemento anche che riguarda il sentire, l'intuizione anche dell'essere in reciprocità. Quindi da una parte, una partidocrazia oggi che continua a parlare alla pancia del paese e che fa molto effetto perché tira fuori l'istinto che aggancia gli istinti famelici, dei cittadini che si sentono così soddisfatti da quel bisogno che viene appunto reso dai politicanti, diciamo così, un bisogno necessario a cui ridare una risposta istintiva. Ma anche invece, e noi dentro il cantiere stiamo cercando di farlo, l'elemento della sinergia che è qualcosa di più che l'elemento cognitivo o comunque della comprensione intellettuale, è una comprensione più profonda. Sì, la cosa importante in questo discorso è la governabilità del sistema sinergico. Allora, un sistema cooperativo può essere governato attraverso una struttura organizzativa solida, altre forme di cooperazioni possono essere più o meno governate attraverso degli atti di imperio coatto. Il sistema sinergico in realtà non è un sistema casuale e caotico, è un sistema che è governabile attraverso degli organizzatori sinergici che possono essere facilitatori o inibitori. Perché? Dov'è la differenza tra il catalizzatore, facilitatore, inibitore e un sistema di coercizione? È il fatto che nel sistema di facilitazione è possibile una piccola trasgressione intorno. Questo margine di errore intorno all'aspetto organizzativo strutturato dal catalizzatore e dal facilitatore permette l'introduzione di sistemi creativi che aumentano la complessità delle risposte e quindi aumentano la proprietà di resilienza del sistema stesso. Questo tipo di evoluzione organizzativa, concettuale, intellettiva è un qualcosa di cui non abbiamo ancora una completa teoria diffusa, una prassi e una organizzazione operativa pragmatica che lo possa rendere immediatamente operativo. Tra l'altro ci si apre sempre il problema di quanto questo sia un modello operativo in termini di ricerca e sviluppo di soluzioni e quanto sia utile invece in ambito operativo. perché è possibile che ci siano fasi diverse, c'è l'aspetto sinergico sia più nella prima fase invece l'aspetto operativo in certe condizioni l'aspetto cooperativo sia quello più utile. Ma è più probabile anche che il modello ibrido delle due situazioni sia quello più generalizzabile. Infatti con il cantiere è proprio su questo che stiamo focalizzando e quindi possiamo, secondo me, far capire anche ai telespettatori come l'elemento cooperativo di collaborazione e quello sinergico vivano e convivano anche nelle diversità, cioè la diversità è diventata un elemento di ricchezza all'interno del gruppo perché in realtà ciascun iscritto, ciascun socio del cantiere in realtà è unico, porta con sé la propria storia e la propria unicità e questo lo rende diverso da tutti gli altri ma in un'ottica costruttiva, anche di costruzione di significati. Infatti abbiamo dedicato molto tempo alla beccedaria della politica, cioè alla capacità di ridare senso e significato alle parole, ecco perché ci siamo soffermati sulla parola bellezza della lotta, proprio per comprendere come in quella frase l'elemento della bellezza rappresenti l'elemento della chiave di volta, di questa reciprocità di questo ponte tra la cooperazione e la sinergia. Quindi un'armonia dove l'armonia non significa che c'è la pace eterna, l'armonia vuol dire che c'è dialogo, c'è il contraddittorio, c'è il metodo liberale anche a volte acceso ma ovviamente sempre nel rispetto degli altri, di se stessi e nella costruzione di qualcosa di altro rispetto a quello che vediamo. In questo io oserei una metafora, proprio basata sulla bellezza, perché siamo attratti dalla bellezza e in questo userai la metafora della rosa. La rosa è uno dei simboli della bellezza e della vitalità che si usano in moltissime culture. Qual è la caratteristica della rosa? Che ha i petali disposti secondo una spirale che segue una sequenza che è stata studiata da diversi autori, tra cui il famoso Fibonacci. Se io metto i petali a quella distanza lungo una certa spirale ho la massima esposizione di ciascun petalo alla luce del sole, dal massimo profumo, l'acqua la assorbono al massimo a parità di energia e di sostanza assorbita dal gambo. Ma se io costituisco una rosa esattamente perfetta secondo questa formula e la vedo, non mi sembra bella. Quella bella è un piccolo errore rispetto a questa forma ideale, però non è appassita. Quindi una appassita ma non perfetta è la rosa bella. Perché la rosa bella non è appassita e non è perfetta? Perché vive in mezzo ad altre rose, le quali in qualche maniera le impediscono di essere perfette. Ma questo impedimento, nel momento in cui la rosa non è appassita, significa che c'è spazio di vita per tutti, mentre ognuno tende alla propria perfezione o comunque al proprio ideale di vitalità. E quindi ecco perché il concetto di bello è il più bel principio, oltre quello intellettuale di logica, di verità o che altro, per indicare un sistema complesso nelle sue parti sinergico. Infatti per ritornare al punto di partenza e concludere, la bellezza della lotta è anche il segno di come il metodo liberale sia imperfetto di per sé, per definizione. Come la democrazia è imperfetta se è una democrazia liberale? Soltanto le dittature, gli assolutismi, i totalitarismi tendono e sono perfetti nella loro struttura. È l'imperfezione la bellezza della lotta, cioè la capacità, la possibilità di non avere una democrazia compiuta, ma sapere che attraverso il metodo liberale la democrazia è sempre perfettibile, è sempre migliorabile. Si può sempre correggere qualcosa, perché anche rispetto al tempo che cambia, la società che cambia. Ecco io aggiungerei soltanto questo, che in un sistema bello sinergico, il sistema stesso sviluppa delle complessità che lo rendono molto più resiliente rispetto ad altre forme. quindi in altre parole è un sistema che ha la capacità di perdurare più nel tempo con la propria autostruttura. E quindi per concludere non vi arrabbiate ma noi del cantiere e il cantiere è imperfetto.